Buongiorno a tutti e benvenuti nell'aula virtuale. Questa è la lezione di lingua italiana per la quarta classe. Il tema di oggi è la moda ecosostenibile. Il mio nome è Cristina Kusciuk e oggi sono la vostra insegnante. Buongiorno a tutti gli studenti e gli studenti, benvenuti a la virtualità di lingua italiana per la quarta classe. Il tema di oggi è la moda ecosostenibile. Dopo di oggi potrete leggere e collegare un pollo corto text con la traduzione di lingua. Oggiungere e comprendere un pollo e un pollo di lingua 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 di lingua. Oggiungere e comprendere un pollo di lingua di lingua di lingua di lingua di lingua di lingua di lingua. Nella lezione di oggi vi servono il quaderno o un foglio di carta, una matita o una penna e la connessione internet. Vi ricordo che potete fermare la video-lezione in qualsiasi momento. Nell'attività 1 per ogni lettera dell'alfabeto scrivete un'espressione che associate al concetto di moda. Ecco un esempio. A come accessori B come borsetta C come collezione D come designer E come elegante F come firmato G come gusto H come handmade I come indossare L come look M come materiale N come negozio N come negozio d'abbigliamento O come occhiali da sole P come passerella Q come quadri R come righe S come sfilata T come tendenze U come usato V come vestiti Z come zainetto Attività 2 Come sono le abitudini di consumo delle due ragazze Abbinate le frasi alle immagini Ecco le risposte possibili La ragazza è in alto 1. Segue la moda e le tendenze 2. Butta i vestiti che ha indossato solo alcune volte 4. Preferisce l'abbigliamento sportivo 7. Fa shopping nei grandi centri commerciali 8. Cambia spesso il suo guardaroba 10. Compra per restare al passo con le novità 11. Compra ai saldi La ragazza è in basso 3. Cerca un look personale e lo stile personalizzato 5. Preferisce i vestiti eleganti 6. Fa acquisti nei negozi dell'usato 9. Preferisce materiali ecologici naturali e vegan 12. Presta attenzione alla qualità 13. Legge le etichette 14. Vende, dona o scambia i vestiti usati con le amiche Attività 3 Ascoltate il testo La moda istantanea ha cambiato le abitudini dei consumatori 20 anni fa si comprava per necessità Poi con la diffusione globale delle prime grandi catene di abbigliamento low cost Lo shopping è diventato un hobby 15. Oggi tutti possono indossare le ultime tendenze 15. Spendendo pochissimo 16. Capi di abbigliamento passano direttamente dalle passerelle 16. Alla produzione in modo rapido ed economico 16. I marchi low cost 17. Lanciano in continuazione nuove collezioni 17. Che hanno durato di poche settimane dando vita a una moda usa e getta 18. L'industria della moda è considerata da molti la seconda industria più inquinante al mondo 19. Dopo quella petrolifera 19. È nota per l'utilizzo e lo spreco di enormi quantità di acqua ed energia 19. L'uso di pesticidi, coloranti e sostanze iper-economiche e tossiche che inquinano l'acqua e il suolo 20. L'emissione di gas serra, lo sfruttamento dei lavoratori nei paesi estremamente poveri e molti altri fattori negativi 20. Ad esempio, per realizzare una semplice maglietta in cotone sono necessari 2500 litri di acqua 20. Però la situazione negli ultimi anni sta migliorando grazie anche al movimento Fashion Revolution nato da una tragedia accaduta nel 2013 20. Quando è crollata la fabbrica di Rana Plaza ad Haka in Bangladesh in cui sono morti più di mille lavoratori che stavano cucendo capi per grandi marchi di abbigliamento low cost 20. Il movimento si batte per un'industria della moda più etica e sostenibile. La moda sostenibile o ecosostenibile ha l'obiettivo di rispettare l'ambiente e i lavoratori in tutte le fasi di creazione di un prodotto da l'ideazione alla produzione e dalla distribuzione alla vendita. La moda sostenibile lavora con materie prime ecologiche crea fibre innovative, produce indumenti di qualità e durevoli riduce gli sprechi e stimola il consumo consapevole Ormai ci sono molti marchi e stilisti che scelgono la sostenibilità Ora rispondete se le affermazioni sono vere o false Ecco le soluzioni Le abitudini d'acquisto non sono cambiate molto negli ultimi decenni Falso Le catene di abbigliamento low cost rendono la moda delle passerelle accessibile a tutti Vero L'industria della moda ha un grande impatto ambientale Vero Le condizioni di lavoro nelle fabbriche della moda low cost sono sempre sicure Falso La moda sostenibile contribuisce alla riduzione dell'inquinamento Vero Nessun marchio low cost realizza i propri prodotti in modo etico e sostenibile Falso La trascrizione del testo la potete leggere usando il link o scansionando il codice QR Quali sono secondo voi le caratteristiche più importanti della moda sostenibile? Fate la graduatoria Ecco un esempio 1. Rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva 2. Rispetto dell'ambiente 3. Ricerca e sviluppo di fibre innovative ed ecologiche derivate da scarti vegetali come ananas e arance o dal riciclo di materiali particolarmente inquinanti come la plastica 4. Utilizzo delle fibre naturali come il cotone biologico, il lino e la setta 5. Produzione di indumenti di qualità e durevoli 6. Promozione della manifattura e della produzione locale 7. Accesso da parte dei consumatori a tutte le informazioni che riguardano il prodotto 8. Uso degli imbalaggi riciclabili Questi quattro ragazzi italiani seguono la moda ma scelgono sempre quella ecosostenibile Descrivete che cosa indossano Capi d'appigliamento, scarpe, accessori, colori e materiali Ecco un esempio La prima ragazza indossa Una maglietta a righe bianche e blu di cotone organico Una gona rossa di cotone riciclato Delle calze bianche di cotone biologico E dei sandali blu di ecopelle La seconda ragazza indossa Una camicia bianca e top beige di lino Dei pantaloni grigi di seta Una borsetta verde di ecopelle E degli occhiali da sole di materiali riciclati Il ragazzo indossa Una felpa grigia di cotone biologico Dei jeans strappati di cotone riciclato Una giacca e delle scarpe marrone di ecopelle E l'ultima ragazza indossa Un vestito fantasia a fiori di cotone biologico Un capotto marrone di lana rigenerata E degli stivali neri di gomma riciclata Attività 7 Quanto è importante la moda sostenibile per voi? Scrivete un testo di 50-60 parole Potete aiutarvi con le parole nell'albero Ecco un esempio Sono appassionato, appassionata di moda Mi piace seguire le tendenze e fare shopping Ma cerco di essere responsabile Leggo le etichette e scelgo i marchi di abbigliamento sostenibile Compro meno e meglio Investo in pochi pezzi di alta qualità che durano a lungo Non butto mai i vestiti che non uso più nella spazzatura Li dono o li vendo online Attività 8 Fate una ricerca su internet su un'azienda italiana di moda sostenibile E completate la tabella Ecco un esempio Nome WOW Anno di fondazione 2018 Prodotto Prodotti Sneakers Obiettivo Realizzare sneakers sostenibili Ecologiche, etiche e riciclabili al 100% Clientella È un brand di moda giovanile Materiali utilizzati Cotone biologico Gomma riciclata Vibra di cocco Curiosità Le sneakers WOW Sono tinte solo con colori naturali WOW Si occupa dello smaltimento delle sneakers direttamente Senza costi aggiuntivi Ritira le sneakers E le reintroduce nel ciclo produttivo Attività 9 Completate il testo con il condizionale semplice Potete aprire l'attività usando il link o scansionando il codice QR Ecco le soluzioni Oggi cominciano i saldi Andiamo a fare shopping? Ti serve qualcosa? No Allora, al posto tuo io starei lontana dai saldi Lo sai bene anche tu Compreresti vestiti solo perché di tendenza e a buon prezzo Che ti metteresti una o due volte e che finirebbero in un angolo dell'armadio Ogni volta che compri un capo dovresti chiederti In quante occasioni lo indosserò davvero Hai ragione A proposito, vorrei sbarazzarmi dei vestiti che non mi metto più Cosa mi consiglieresti di fare? Al tuo posto io li venderei online nei gruppi di Facebook o sui Marketplace Che sono siti o piattaforme web o applicazioni dedicate alla compravendita di prodotti o servizi Potresti anche consegnarli alla cassa di alcune grandi catene di abbigliamento Che li ritirerebbero e riciclerebbero e in cambio ti offrirebbero buoni esconti Ma secondo me faresti bene a donarli Sì, mi piacerebbe donarli Sapresti dove potrei portarli? In quei cassonetti gialli della Caritas Perfetto, mi daresti una mano a portare giù i sacchi domani? Certo, ne sarei felice Attività 10 Che cosa direbbe un consumatore consapevole? Formate delle frasi usando il condizionale semplice e gli elementi dati come nell'esempio Evitare le mode a breve termine, investire in pochi pezzi di ottima qualità Quanti vestiti e quanti soldi sprecati? Io al posto tuo eviterei le mode a breve termine e investire in pochi pezzi di ottima qualità Che indosserei più di una stagione Ecco un esempio Riparare gli abiti rotti Indossarli il più a lungo possibile Nonna, mi ripareresti questi abiti rotti? Vorrei indossarli il più a lungo possibile Non buttare i vestiti Portarli ai punti di raccolta degli indumenti usati Al posto tuo io non butterei tutti quei vestiti Potresti portarli ai punti di raccolta degli indumenti usati Dare nuova vita alla bigiotteria rotta Se non sai cosa fare con questa bigiotteria rotta Potresti regalarla a Sonia Lei saprebbe darle nuova vita Fare attenzione a cosa compriamo Tutti dovremmo fare attenzione a cosa compriamo Dietro la nostra ultima maglietta potrebbe nascondersi il lavoro di un minore sfruttato Ora vi invito a fare un'autovalutazione delle vostre competenze legate al tema di oggi Sada možete napraviti samovrednovanje Pomoću jednog od tri emotikona označite u koje ste mjeri postigli ishode današnje lekcije Mogu povezati vrlo kratak tekst sa slikovnim predloškom Mogu razumijeti srednje dugi i srednje složeni tekst na temu modne industrije Mogu razumijeti kratak i srednje složeni tekst na temu eko i održive mode Mogu opisati odjeću prema slikovnom predlošku Mogu napisati kratak tekst o vlastitom odnosu prema održivoj modi Mogu samostalno provoditi složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju Mogu dopuniti tekst sa oblicima glagola u kondicionalu prvom Mogu izraziti želju, pretpostavku i mišljenje Mijete dati savjet koristici kondicional prvi La nostra lezione finisje qui Arrivederci alla prossima lezione